Un nuovo supereroe è arrivato in città, uno, due, tre, è votato alla correttezza, cinque, sei, sette, otto, nove, tre, quattro, cinque, la gente lo, sì, beh, sì, beh, lo osserva, centotto, nove, una pericolosa denuncia sociale, centoquantasette, quarantuno, quarantadue, centoquantadue, centoquantadue, che lo porterà ad una sconvolgente scoperta. Bindirindina è il corregitore. Con due gigno, avante. Ah, scusa, il corregitore. E per chi se lo fosse perso? Oh, freddo stamattina. Ma saranno tre gradi, oh. No, sono a due. Pa, 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 clac, boom. Pa, 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 pa. Morro do Dendeu de empate. Mas quem da Alemão vamos se divertir. Porque do Dendeu vou dizer como é que é. Aqui não tem mole nem pra TRE. Pra subir aqui no more até o Bop treme. Non c'è mole pro exército civil ne sta bene